Buona domenica della redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignol. In Fipilita, Livorno-Aurelia e Tirrenia, in direzione a Livorno, si è formata una coda per incidente al chilometro 81 e 500. In A11 tra Alto Pascio e il BV A11 raccordo Luca-Viareggio verso Pisa, traffico intenso e rallentamenti. Sull'accordo autostradale Siena-Firenze per lavoro in corso, possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, Trabadesse e Siena-Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza del viadotto Filinelle nel comune di Barberino Tavarnelle. Trenitalia informa che nella giornata odierna effettuerà diversi treni straordinari sulla linea Marra di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Interventi notturni al cantiere della Tranvia, in Piazza della Libertà e Viale Don Minzoni a Firenze le notti del 12 e 13 giugno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!